Eccoci insieme cari telespettatori, riprendiamo un po' il filo del discorso interrotto poco fa. Parliamo di mafia, di criminalità organizzata, di un sistema che si è incuneato e ha proliferato e continua a proliferare anche nel nostro nord-est. Ebbene sì, Veneto, Fiori, Venezia, Giulia, ma non soltanto. Un corridoio tra l'altro economico di grande interesse. Ma cosa vuol dire parlare di mafia nel nostro nord-est? Non c'è una percezione corretta, anzi numeri interessanti, poi ne parleremo anche insieme, dicono che tutto sommato non viene considerata un problema rilevante. Però quando le cose si trascurano poi degenerano, proliferano anche a nostra insaputa di noi cittadini e possono anche coinvolgersi nel modo peggiore, perché poi della mafia non ci si libera più. Operano le istituzioni, azioni anche muscolari delle forze dell'ordine quando bisogna intervenire, però poi di fatto in modo molto fluido si muove sul territorio dove ci sono affari, dove c'è business e dove c'è anche a volte poca consapevolezza. Ingenuità? Ma tutto da vedere. Allora, ne parliamo con i nostri esperti. Vediamo anche che cosa manca nel sistema che consente a queste di radicarsi. Professore Antonio Parbonetti, ben ritornato qui con noi, docente e proletto dell'Università di Padova. Normale. Grazie. Avvocato Marco Lombardo di Libera, che sta organizzando un bel po' di eventi, di occasioni di incontro per sensibilizzare l'opinione pubblica. Alessandro Naccarato, onorevole, già componente della Commissione Antimafia, grazie anche a lei. E la dottoressa Stefania Targa, consigliera dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, esperta nel settore in certo qual modo, perché anche i professionisti debbono essere allertati e molto attenti. Allora, prima di incominciare insieme, come sempre, vediamo il nostro video introduttivo. La sottovalutazione, mi permetto di dirlo, della pericosità mafiosa. Rimane quell'equazione ormai forviante tra mafia e sangue, insomma. Si dice, la stragrande maggioranza, che è un problema globale, però poi c'è un 7,5% che dice che le mafie sono un problema di letteratura. Oltre 10.000 questionarii distribuiti da Libera nelle regioni italiane, tra le associazioni e la gente, nei luoghi di lavoro, per comprendere a che punto è nel paese la percezione del fenomeno mafioso e della corruzione, con risultati che lasciano interdetti, preoccupano. E' quasi una suefazione al fenomeno e questo si mette in stretto collegamento con il modo in cui si affronta la questione mafia e la questione corruzione. E c'è una bassa, bassissima fiducia nei confronti del mondo della politica, ma anche verso le istituzioni. Evidenzia che non c'è quell'attivismo necessario per intervenire nel sostenere le ragioni della gente, quella vicinanza che la gente vuole che costituisca poi garanzia dei loro diritti. Il 20% pensa che per lottare la corruzione sia utile votare i politici onesti. Questo mi sembra un altro dato ulteriormente preoccupante. Io sono convintissimo che fra l'altro c'è un rapporto strettissimo fra sfiducia e per esempio corruzione. Quanto più aumenta la sfiducia, tanto più le persone proveranno a trovare le strade traverse. Ecco, vorrei cominciare con lei, Avvocato Marco Lombardo, perché la ricerca l'avete incominciata e l'avete condotta e da qua è partito tutto un progetto molto interessante. Perché questa ricerca? Che cosa è scattato? Beh, la ricerca è iniziata a fine 2016. Noi ci siamo chiesti che tipo di percezione il Paese avesse del problema mafia, criminalità organizzata e corruzione. I Paesi in giro, in tutta l'Italia? In tutta l'Italia, esattamente. Quindi noi abbiamo preparato con un nostro gruppo di esperti, un comitato scientifico, un questionario di più di 30 domande che sono state sottoposte a campione su base nazionale. Abbiamo raccolto più di 10.000 questionari in tutta Italia e quasi poco più di un migliaio nel solo Veneto. Diverse erano le tipologie di domande, ma miravano a capire che tipo di idea, conoscenza, le persone sottoposte al questionario avevano rispetto a questi fenomeni. Ed è venuto fuori come, a livello nazionale, ci sia una scarsa consapevolezza della presenza e della diffusione del fenomeno mafia. Ma questa scarsa consapevolezza è molto più accentuata nel territorio del nord-est. Se noi, ad esempio, se consulto un attimo i dati di questa ricerca, vediamo che su base nazionale il 29% di chi ha risposto ha risposto dicendo che la mafia dove io abito è un fenomeno marginale, il 29%. A livello di nord-est, invece, il 47,3% dice che la mafia è un fenomeno marginale. Un'altra domanda che è indicativa. La domanda era, la mafia dove lei abita è socialmente pericolosa e presente? Soltanto il 17,5% nel nord-est ha risposto di sì, mentre su base nazionale il 38% ha dato questo tipo di risposta. Quindi vediamo che nel nord-est... Non c'è un problema così semplice. Non viene percepito da parte del tessuto sociale, perché le domande che sono state fatte sono state fatte a studenti, a imprenditori, a lavoratori, a soggetti di varie fasce d'età e di varie estrazioni, per cercare di capire loro che tipo di percezione rispetto al racconto mafia, perché se uno si informa e legge, e vede quello che emerge anche quotidianamente dalle indagini della magistratura, dalle ricerche che a livello universitario vengono pubblicate e diffuse, i dati non sono questi, non possono essere questi. Quindi c'è una incapacità di leggere l'attuale e anche il tessuto sociale in cui uno si trova, perché se la risposta del nord-est è che soltanto il 17% ritiene che la mafia è un fenomeno preoccupante e socialmente pericoloso nel nostro territorio, che è un territorio che ha generato la mafia del Brenta, che ha generato Aspide, che è un gruppo criminale autottono che tra il 2009 e il 2011 ha operato a Padova, in particolare a Padova, ma in tutta la regione e fuori regione, mafioso, e tutte le presenze delle criminalità organizzate tradizionali nel nostro territorio, cosa nostra soprattutto Andrangheta e Camorra, è difficile pensare da esperti del settore che la società civile ritenga che sostanzialmente il fenomeno non ci sia. Però qui, qui dopo entriamo anche nel merito specifico, si manifesta in modo diverso. Certo, certamente. Per cui noi abbiamo, vabbè, anche i media che ci danno anche i film stessi, la filmografia, ci comunica una mafia di un certo tipo, per cui se noi non la vediamo in quel modo lì, non la riconosciamo, tra virgolette. Questa è una delle cause probabilmente. Esatto, dopo vediamo anche altre cause. Professore, chiedo un po' che anche voi avete condotto uno studio a riguardo, anzi vi siete ormai, lei in modo particolare, con il suo team di collaboratori specializzati notevolmente su questo. Sì, noi abbiamo fatto un'analisi che riguarda la parte economica e la dimensione economica che le varie organizzazioni criminali mettono in piedi. Che è la cosa fondamentale, il nucleo. Che è il modo con cui si manifestano qui. Quindi, è vero che noi siamo abituati a immaginare all'Andrangheta o a Cosa Nostra e alla Camorra come un'organizzazione che tendenzialmente uccide, brucia, mette le bombe, fa gli attentati. Allora, questo oggettivamente in questi territori succede raramente. Vediamo a Foggia quello che sta succedendo. Però, qui non è che siccome si manifesta in un modo diverso non c'è proprio niente. Per quello che abbiamo trovato è una presenza che è legata a delle attività economiche. quindi è un modo di essere e un modo di essere presenti in questi territori che è diverso rispetto a quello che ci immaginiamo. Perché i film, perché quello che vediamo, quello che abbiamo sentito ci induce a pensare al mafioso come quello con la coppola. Non c'è. C'è una presenza che parte da rapporti economici, da aziende che in qualche modo offrono dei servizi e dietro a quei servizi però ci possono essere fenomeni criminali anche importanti e anche legati al riciclaggio. Quindi credo che una dimensione su cui dobbiamo riflettere c'è una presenza nuova, diversa rispetto al passato che però ha degli effetti importanti sui territori. Riconoscibilità, professore. Questo è un aspetto rilevante perché se mi si presenta sotto una veste diversa opera in modo diverso perché poi si radica nel tessuto economico, produttivo perché do la connotazione come faccio a capire che è la mafia e a non caderci poi come imprenditore perché lei stesso dopo anche analizzeremo insieme dice risolve problemi perché di fatto dà opportunità di business agevola in certe procedure burocratiche estremamente lunghe interviene dove i servizi la politica e le istituzioni non ci sono tipico un po' della mafia. Come si riconosce? Allora diciamo che l'apparenza è che mi offre un servizio il servizio può essere lo sbaltimento rifiuti oppure mi offre un servizio che può essere nell'indagine Emilia veniva fuori che c'era un servizio di evasione legato al fisco per cui mi faceva fatture false è chiaro che questo riesco a riconoscerlo oppure faceva dei servizi legati a riduzione del costo del lavoro quindi l'imprenditore o la persona che c'entra nel rapporto ha la possibilità di capire il resto la società nel suo complesso vede delle aziende vede delle aziende come ce ne sono tantissime altre e in alcuni casi vede delle aziende che vanno anche particolarmente bene quindi la società nel suo complesso fa fatica a riconoscere certo che poi nell'interazione di affari con imprenditori con il mondo dei professionisti ci possono essere delle dimensioni che sono diverse che sono strane appunto se lo smaltimento rifiuti costa X arriva uno e me lo fa dieci volte di meno è vero è conveniente ma forse dietro quello sconto ci può essere qualcosa che non è del tutto legale allora è chiaro che ripeto noi cittadini facciamo fatica perché vediamo un'azienda vediamo un'azienda che ha un imprenditore un imprenditore che magari appunto ha tutte le caratteristiche dell'imprenditore tipico e quindi facciamo fatica a riconoscerle e a vederlo certo che questa presenza mediante le aziende però altera modifica il tessuto produttivo modifica i mercati e fa male all'economia nel suo complesso quindi è da noce per tutti fa male all'economia dopo appunto questo aspetto qui dottoressa fa male all'economia voi ve ne rendete conto tra l'altro come ordine dottori commercialisti anche voi vi siete attivati ne abbiamo anche già parlato ma dovete farlo perché i professionisti sono coinvolti i professionisti di fiducia originariamente della casa madre diciamo così però molte volte vengono anche toccati sondati i professionisti locali che possono ravvedere alcune anomalie magari certo infatti a tutti gli ordini territoriali è stato demandato è stata riconosciuta questa figura di di come dire di dare supporto a tutti gli iscritti ai fini ai fini della formazione ai fini di un controllo anche all'interno degli stessi studi di ogni iscritto se mettono in atto tutti gli addempimenti anti-reciclaggio in che cosa consistono questi addempimenti anti-reciclaggio cioè riconoscere fenomeni quindi lo studio deve essere pronto a riconoscere i fenomeni che possono nascere all'interno dei propri clienti imprenditori sia di anti-reciclaggio di denaro sia fenomeni appunto derivati dalla mafia quindi qualcosa che comunque non è non riguarda la normale gestione e quindi riconoscere questo rischio che può che può ma che interesse può avere il professionista a segnalarlo a mettersi in qualche modo in discussione in gioco in questo e quindi anche attivare aprire una porta per quanto riguarda controlli anche molto importanti sull'azienda stessa allora intanto il professionista iscritto ad un albo ha anche una sorta di deve assolvere anche ad una sorta di onorabilità nei confronti anche della della categoria quindi il fatto di essere appartenente ad una categoria dà anche questo tipo di incombenze e quindi di collaborazione nei confronti insieme quindi alle istituzioni proprio perché sono le istituzioni che hanno demandato agli ordini questa figura li ha riconosciuti come organismi di autoregolamentazione e di conseguenza nei confronti degli iscritti che devono assolvere e ad adempiere tra l'altro se non viene insomma se non ci si mettono in atto tutte queste norme tutte queste procedure perché in realtà sono delle procedure all'interno degli studi proprio per riconoscere il rischio quindi formazione anche di un protocollo sostanzialmente una sorta di compliance visto che è un po' un termine che va di moda in questo periodo quindi c'è tutta questa sorta di compliance da adottare all'interno dello studio e quindi il professionista che interesse ha intanto assolvere quello che è obbligo che gli viene dato obbligo e anche dovere e poi quello di aiutare magari anche dare un supporto aiutare l'imprenditore qualora venga a conoscenza di informazioni e qualora l'imprenditore stesso magari si confidi perché spesse volte è difficile anche per il professionista capire che cosa sta succedendo perché magari riguardano operazioni tipiche della gestione prezzi magari prezzi più bassi servizi a prezzi più bassi che quindi non è una sorta di denari contanti o fatture false che magari possono saltare un po' più all'occhio quindi dipende da che tipo dice questa mafia come si inserisce all'interno di questa azienda perfetto Onorevole Naccarato stando sempre alla prima un po' questione consapevolezza consapevolezza è un aspetto molto importante questo la politica ha un ruolo ha avuto un ruolo ce l'ha fondamentalmente e una responsabilità perché poi il fatto che si è distaccata dai cittadini e tutto ancora più lascia margine ad altre forme di autogestione diciamo così non c'è dubbio ha una responsabilità importante sulla consapevolezza e non solo anche poi sul piano legislativo perché le istituzioni dovrebbero poi dare anche risposte sul piano pratico sulla consapevolezza il problema credo che riguardi la politica come espressione della società è a lungo nelle regioni del nord tra l'altro è un film che si è visto bene prima in Liguria poi in Piemonte poi in Lombardia l'abbiamo rivisto in Emilia da tutti i dati che abbiamo lo stiamo rivedendo in Veneto in Friuli Venezia Giulia c'è prima un atteggiamento diciamo sottovalutazione di negazione del fenomeno quando poi arriva la magistratura che arriva purtroppo prima delle istituzioni della politica dico purtroppo perché invece dovrebbero essere le istituzioni ad anticipare la parte di prevenzione allora dopo tutti comprendono quello che sta succedendo quasi forse ci fosse una connivenza agli occhi dei cittadini non dico una complicità però insomma qui devo dire il dato è un po' cambiato rispetto al passato proprio per le caratteristiche diverse con cui le mafie operano nelle regioni del centro nord mentre al sud c'è l'esigenza di un controllo del territorio sia sul piano militare che sul piano istituzionale quindi questo prevede legami molto forti anche con le istituzioni politiche al nord proprio per farsi vedere di meno operare in modo diciamo più silenzioso il tentativo è quello di non ricorrere mai alla violenza e anche il meno possibile ai coinvolgimenti di natura politica si cerca di operare direttamente con le istituzioni economiche andrà a sodo insomma e qua l'interesse è la ricchezza sono i soldi e meno ci si fa vedere meno ci si fa notare meglio è devo dire che purtroppo ci sono riusciti molto bene tant'è che mentre sulla corruzione la politica è direttamente coinvolta le istituzioni sono direttamente coinvolte sulla parte economica finora diciamo così i segnali sono di altro tipo ecco c'è un'altra cosa che secondo me aiuterebbe a capire meglio qui abbiamo un grosso problema da tempo come in tutte le regioni del nord con l'infedeltà fiscale le mafie hanno studiato bene i dati sull'infedeltà fiscale cioè su una propensione mi lascio usare questo termine quasi diciamo così endemica in queste aree del paese a pagare meno tasse possibile o a non pagarle ad avere attività occulte hanno studiato bene questi dati hanno capito che attraverso questo rapporto di infedeltà fiscale era facile entrare in contatto con settori dell'economia e dell'imprenditoria e hanno fatto questo è stato un problema eh certamente si sono infilati in questo punto molto debole dove diciamo la politica c'entra fino a un certo punto mi si è consentito nel senso che purtroppo c'è una diffusione tra i cittadini quasi spontanea quasi autonoma nel rapporto negativo con lo Stato e con le tasse e questo ha favorito molto questo fenomeno in queste aree l'abbiamo visto bene in Emilia Romagna quindi non è un problema di colore politico per questo voglio dire adesso lo stiamo osservando in Veneto l'abbiamo osservato in Lombardia in Piemonte quindi in Emilia Romagna è scoppiato il caso certamente grazie a un'indagine dell'autorità giudiziaria esatto torniamo su questo andiamo rapidissimi in pubblicità poi vediamo di fare anche un collegamento telefonico tra poco